agriturismo da gustinel da noi trovate primi piatti come lasagne cappelletti tacconi tagliatelle preparati con passione da elisabetta fiorenza e aldesina secondi piatti con rilevanza di carne arrosto cotte in forno a legna tacchino oca anatra coniglio pollo allevati direttamente da gabriele e i suoi familiari e inoltre piadina e formaggi locali menu esclusivi su prenotazione telefonate al numero 0721 89 01 83 da gustinel agriturismo minimale in via fraschetta 3 piagge in provincia di pesaro urbino